Assessore, allora questa mattina nel lungomare di Ponte Sasso Bob Catti in azioni contro la sabbia. Sì, effettivamente il problema di tutto il lungomare, soprattutto in caso di vento forte che in questi giorni c'è stato, è quello che la sabbia dalle spiagge invade le strade e crea anche, oltre che un disagio, anche un pericolo. E ovviamente abbiamo già programmato di intervenire il prima possibile, questa mattina sono intervenute le nostre ditte, ieri è intervenuto Mondolfo, quindi diciamo sono attività che facciamo frequentemente. Questa volta la sabbia era veramente tanta, anche il servizio di ieri sera mostrava come la situazione potesse essere anche pericolosa. e ovviamente siamo intervenuti subito, lì noi abbiamo iniziato a fare un'attività di riqualificazione mettendo dei muretti. Vorremmo continuare a farlo perché effettivamente dover andare giù dopo ogni volta che fa un tiro un po' di vento a pulire diventa per noi anche un problema. Per cui ovviamente la prospettiva è quella di fare la pista ciclabile con un muretto che appunto, come dire, tenga distante la sabbia dalle strade anche per un problema di sicurezza e abbiamo iniziato a farlo, continueremo a farlo con la pista ciclabile. Per cui va bene, siamo intervenuti tempestivamente, indipendentemente dal servizio, ma sicuramente avevamo pianificato prima, però credo che quel problema sia un problema frequente, quindi ci prendiamo carico di farlo magari un po' più spesso. Può essere anche un problema il come viene accumulata la sabbia lungo l'arenile, poi se ci sono accortezze che si possono tenere per evitare poi che il vento faccia quello che ha fatto? Beh effettivamente ce ne sono poche, ci vuole un muretto come abbiamo iniziato a fare, come ho detto, ci vuole questo muretto che insomma cerchi di creare un filtro, dove ci sono le concessioni e l'edificazione tra virgolette anche temporanea dei bagnini permette insomma di bloccare un po', dove invece ci sono le spiagge libere purtroppo il problema è veramente importante e molto frequente. Grazie